Buongiorno a tutti, raper Giovanni Salimbeni e benvenuti nel canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi vorrei parlarvi del kit completo degli oculari Bader Morpheus. Nelle focali ve le faccio vedere 4,5 mm, 6,5 mm, 9 mm, 12,5 mm, 14 mm e 17,5 mm che ho ricevuto dal distributore ufficiale di Bader Planetarium qui in Italia, che è Unitron Italia e che sono attualmente in offerta a 1.295 euro al posto di 1.630 euro. Nel prezzo è anche compresa questa ottima valigia metallica imbottita. Il prezzo inoltre di ogni oculare è acquistabile singolarmente di 220 euro contro i 275 euro che è il prezzo classico. Lodevole secondo me è il fatto che Unitron Italia abbia mantenuto gli stessi prezzi tedeschi anche se l'iva italiana è superiore. sul mio sito è presente un articolo molto approfondito che potrete leggere utilizzando il link qui in alto. Io cercherò di parlarvene in sintesi all'interno di questo breve video. Ci vediamo comunque tra poco dopo la breve sigla. Inizio con anticiparvi che ho deciso di testare questi oculari con due rifrattori. Il rifrattore ha la fluorite Takashi FS 128 che vedete qua dietro che appunto ha 128 mm di diametro e ha una focale di 8,1 e un doppietto alla fluorite minerale. Poi ho utilizzato un rifrattore acromatico Celestron da 150 mm aperto a f5 quindi il classico acromatico di corta focale. Le focali testate sono tutte quelle presenti e disponibili per i Bader Morpheus. Quindi ve li ripeto 17,5 mm, 14 mm, 12,5 mm, 9 mm, 6,5 mm, 4,5 mm. Io qua per farvi rivedere ho preso il 17,5 mm e il 4,5 mm. Li ho testati e comparati assieme a ortoscopici Takashi, Sino e Vixen SS Wide oppure al Doctor UVA da 12,5 mm. L'idea era infatti di compararli attraverso strumenti differenti e necessaria perché le aberrazioni geometriche e cromatiche di un oculare sono direttamente proporzionali allo schema ottico del telescopio utilizzato. E' ad esempio inutile cercare di verificare la correzione geometrica reale di un oculare osservando il new newton aperto F4 e privo ad esempio il rispianatore di campo. Avalendomi invece di un rifrattore aperto F5 e di un rifrattore adatto comunque alle osservazioni lunare e planetarie ho avuto in parte la possibilità di verificare il comportamento di questi oculari Bader Morpheus. Ho osservato la Luna, il pianeta Venere e i vari oggetti del cielo profondo. Passo ora a esporvi le loro caratteristiche tecniche. I Bader Morpheus forniscono un campo apparente di 76 gradi. Non sono quindi più grandangolari presenti sul mercato, tuttavia pochi astrofili non considerano che mediamente l'occhio umano ha una visione periferica di 120 gradi. Ma la zona di maggior risoluzione, quindi la parte centrale della retina, dove sono presenti molte più cellule coniche, è di circa 60 gradi. Se poi considerate che i portatori di occhiali hanno una percezione periferica ancora inferiore, comprenderete che io reputo più che sufficienti i gradi forniti dai Morpheus. Per leggerezza, dimensioni e qualità, mi sono sembrati degli ottimi alleati per gli amanti delle visioni binoculari. Oltretutto, progettare un oculare grandangolare con un campo di vista di 70-75 gradi presenta anche dei pregi, poiché le aberrazioni geometriche sono inferiori e si rischia meno di incorrere nei problemi di parallasse. Il loro schema ottico è composto da otto lenti in cinque gruppi, di cui una ED, quindi a bassa dispersione, e inoltre sono anche presenti due lenti all'antanio. È stato anche applicato un trattamento antiriflesso su ogni superficie, mentre i bordi delle lenti sono annerite, così come l'interno dello scafo ottico. La lente di campo di tutti gli oculari ha un diametro di 37 mm, inoltre il bordo oculare è molto ribassato e questo consente sia una rapida pulizia della lente, sia un ottimo comfort per i portatori di occhiali. L'estrazione pupillare dichiarata è perfetta anche per i portatori di occhiali, perché ad esempio è compresa tra i 17,5 mm sino ai 21 mm. È possibile montare gli oculari in duplice modo, grazie al sistema a doppio barilotto. Nella parte inferiore il suo diametro è di 31,8 mm, mentre nella parte più in alto il diametro del barilotto si allarga fino a raggiungere i 50,8 mm, quindi i classici due pollici. Sono presenti delle zigrinature, definite safety kerfs, che evitano che l'oculare si sfili quando non è serrato alla perfezione. Oltretutto senza la zona incava del barilotto è possibile mettere in asse con maggiore facilità gli oculari, anche all'interno dei vecchi portoculari non dotati del collare di fissaggio. Ho apprezzato particolarmente la luminescenza della grafica. Vi invito infatti a leggere nell'articolo gli accessori di serie che vi riassumo in questa immagine. È presente poi una filettatura con passo M43 per facilitare il collegamento con le mirrorless o le macchine fotografiche. Come inoltre potete vedere, i barilotti e la conformazione nella parte finale degli oculari sono stati ottimizzati per essere facilmente utilizzati con i visori binoculari e binocoli astronomici. Gli oculari inoltre sono sigillati impermeabilizzati ma leggeri. L'oculare più pesante di questa serie infatti non supera i 360 grammi. Per essere robusti e dotati di uno scafo di alluminio infatti sono decisamente leggeri. È giunto adesso il momento di parlarvi delle mie impressioni sul campo e sono consapevole che sia difficile sintetizzarle riguardo ogni focale. Quindi cercherò di articolare un discorso relativo a tutta la serie. Per quanto riguarda la nitidezza e il contrasto, sono quasi perfettamente comparabili ai migliori ortoscopici che possiedo, soprattutto nell'osservazione lunare o del paesaggio, dove il beneficio del maggior campo apparente cela la minima differenza di nitidezza. Grazie inoltre al trattamento Phantom Coating resistono anche bene ai riflessi fantasma e alla luce diffusa, pur essendo composti da uno schema ottico complesso. Ovviamente gli oculari ortoscopici mostrano un po' meno luce diffusa, ma hanno un campo decisamente meno ampio, soprattutto sopra i 9 mm di focale. Un rapido confronto con i Vixen LV all'antanio degli anni 90 ha dimostrato come i vecchi oculari giapponesi fossero meno nitide e con una maggior luce diffusa rispetto ai nuovi Balver Morpheus, che di contro appaiono più nitide e contrastati, luminosi e neutri. Con il Takashi FS 128 e il bordo lunare sono molto nitide, con dettagli ben evidenti e contrastati. Lo ripeto, in asse questi oculari sono quasi comparabili a un ottimo ortoscopico, sembra anche per me abbastanza incredibile. Questi oculari inoltre presentano anche altri lati positivi, come la possibilità di osservare con più tranquillità attraverso un telescopio installato su una montatura altazimutale. Grazie al grande diametro delle lenti non si appannano e grazie al ampio campo di vista avrete appunto una porzione inquadrata, ad esempio, della superficie lunare cosiddetta di più ampio respiro. Con il Balver Morpheus inoltre l'effetto blackout, che capita quando si tengono gli occhi più avanti rispetto alla corretta estrazione pupillare, è abbastanza facile da evitare, tranne forse nel 4,5 mm che è un po' più ostico. Penso però che siano degli oculari veramente comodi, da utilizzare più comodi, ad esempio, dei Pentax X-Wide che all'epoca mi avevano fatto un po' tribolare durante le osservazioni astronomiche. Ovviamente c'era considerare che l'effetto blackout peggiorerà il diminuire della pupilla di uscita e per questo motivo potrebbe variare da focale a focale in base anche all'apertura del vostro telescopio e per questo che non dovreste mai ascoltare opinioni molto nette perché una persona, un astrofilo, può utilizzarlo con un telescopio magari da un diametro inferiore a quello che possedete voi. Devo dire inoltre che la resebordi è ottimale, soprattutto con il Takashi aperto F8, ma devo dire che è anche ben corretto F5 dove poi nella maggior parte dei casi con tutte le focali si nota più che altro un po' di coma e astigmatismo verso l'80-85% dal centro del capo. Con il Takashi FS128 la percezione di avere a che fare con un po' di coma svanisce e il campo De Morpheus appare ben corretto sino al bordo del campo dove si vedono ancora stelle doppie pari a piccole capocchie di spillo. Ma del resto la qualità delle immagini fornite da un rifrattore di tale qualità anche con la torretta binoculare e due oculare ad esempio da 14 mm è di una bellezza disarmante. Vedrete stelle puntiformi, contrasti netti anche su soggetti flebili e in alcune ad esempio galassie dell'orsa maggiore. I Bader Morpheus non contengono la luce diffusa e riflessi come migliori ortoscopici ma non pensate che le differenze siano così eclatanti. La luna vista infatti con un telescopio di qualità propone dei bordi netti privi di cromatismi. Fondo cielo intorno al nostro satellite è scuro e con poca luce diffusa. Sia con la torretta sia in monovisione l'ampio campo di vista dei Bader Morpheus e tutti i pregi sopraesposti danno un'impressione di estrema naturalezza che all'atto pratico me li ha fatti preferire ai più soffocanti a livello di campo apparente, campo reale, ortoscopici. E' giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi innanzitutto con il kit è la presenza gratuita della valigia che come vedete è di buona fattura ben molto robusta e anche ben sagomata all'interno. Gli oculari hanno un'ottima trasmissione sono luminosi, un buon contrasto e un'ottima nitidezza inoltre contengono egregiamente riflessi e la luce diffusa. Mi è piaciuto anche il sistema antiscivolo del barilotto degli oculari inoltre ci sono tanti accessori in dotazione per essere uno schema ottico complesso sono anche decisamente leggeri inoltre ho apprezzato moltissimo lo sforzo di Unitron Italia di mantenere il prezzo identico a quello presente in Germania anche se come sapete in Italia sia l'IVA che i costi di magazzino e le tasse sono superiori. Tra i difetti onestamente non ne ho trovati forse avrei preferito un altro paio di focali. Ma in sintesi vi posso confermare che se possedessi degli oculari ortoscopici e basta forse vorrei anche questi oculari per poter sfruttare al meglio le mie torrette binoculari su ampie zone della superficie lunare con un effetto da binocolo di pregio. Se invece possedessi già gli oculari Bader Morpheus non sarei così tentato di acquistare ortoscopici o schemi più semplici per le mere osservazioni lunari e anche la differenza prestazionale con prodotti dal doppio del prezzo non è di certo proporzionale al costo. Per tutto il resto i Morpheus mi sono parsi un'eccellente scelta perché sono nitidi, contrastati e con un ottimo campo apparente e un eccellente arredo anche di accessori in dotazione. Le mie focali preferite sono state il 9 mm il 12,5 mm perché sono perfette per l'osservazione con i binocoli astronomici. Vi ricordo che per tutto il mese di maggio questi oculari sul sito unitronitalia.com saranno in offerta sino a usaremento delle scorte sia con kit totale con 6 oculari sia in versione starter kit con 3 oculari. L'offerta inoltre prevede uno sconto di poco superiore al 20% anche per l'acquisto dei singoli oculari. Visitando comunque il sito unitronitalia.com potrete vedere questi prodotti e l'offerta e avere anche la possibilità di acquistarli direttamente con un semplice click. Io ringrazio come sempre il distributore ufficiale dei prodotti Bader Planetarium qui in Italia che è un'intro in Italia per avere fornito questi oculari oggetto del test. Vi aspetto inoltre come sempre su questo canale sul mio sito ufficiale che è binomania.it sul forum di Binomania e sul gruppo Facebook che si chiama Binomania Community. Per aiutarmi a divulgare questo video se vi è piaciuto potrete sia mettere un bel mi piace ma soprattutto iscrivervi gratuitamente utilizzando il link qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!